Cade Industria di Como, tensione tra sindacati e fondazione. Il cambio di contratto che entrerà in vigore dal 1 ottobre per i neoassunti non è stato digerito dalle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero di tutto il personale della Fondazione Cade Industria per la giornata di sabato 25 settembre, previsto inoltre un corteo per le vie del centro cittadino dalle 9.30 alle 12.30. Restiamo convinti che il futuro della fondazione non sia il cambio del contratto. Tutti gli sforzi della fondazione e del personale devono direzionarsi verso l'obiettivo comune di riempimento dei posti letto vuoti, di organizzazione dei servizi che diano nuove prospettive rispondendo ai bisogni degli anziani della città di Como, si legge nella nota firmata dalle organizzazioni sindacali CGL, CISLE, UIL e le RSU. Riteniamo serva un piano di rilancio condiviso con le istituzioni cittadine, in particolare del comune di Como, e con il sostegno da parte di Regione Lombardia serve progettare forma alternative di assistenza ed un'offerta di servizi all'avanguardia che sia di qualità per gli ospiti anziani e per gli operatori. Seppur legittime nei loro diritti, non capisco le ragioni di questo sciopera, spiegato l'avvocato Gianmarco Beccalli, presidente della fondazione Cadeindustria, scioperano per persone non ancora assunte e che grazie a questo nuovo contratto potrebbero esserlo. L'azione che stiamo facendo è di mantenere invariati i diritti dei dipendenti che ad oggi lavorano all'interno della struttura e che non avranno alcun tipo di cambiamento nel contratto. Abbiamo necessità di ridurre i costi. Il mondo dell'RSA in questo momento è in una situazione di concorrenza e noi come fondazione dobbiamo cercare di metterci al passo per non andare fuori mercato. Poi conclude. Queste dimostrazioni vanno non soltanto contro Cadeindustria e i suoi lavoratori, ma scoraggiano anche le persone a trovare assistenza nella nostra struttura.